Noi lasciamo l'uovo qui in attesa che il signor Albertini, probabilmente una volta che la nostra manifestazione, come avete visto, del tutto pacifica, si sarà sciolta, invitiamo tutti a continuare a seguire la campagna che stiamo portando avanti contro il lavoro nero a Napoli. Non esistono ma ci sono. Vi invitiamo a tenere sotto occhio la pagina della Camera Popolare del Lavoro di Napoli con la quale stiamo sostenendo le battaglie di tutti i lavoratori napoletani. Ancora una volta invitiamo Albertini che non si è fatto vedere, l'uovo resterà qui ma noi non ci fermeremo. Al prossimo episodio